e lo verra io sono emilio valotti del canale youtube un bounce qui anche oggi per rispondere a un quesito nato dalla serie live action asoka ovvero i to gruta possono respirare sott'acqua è una domanda che ci siamo chiesti molti vedendo il quarto e quinto episodio tuttavia ancora non abbiamo una risposta certa ma andrò ad indagare andrò a fornirvi alcune spiegazioni alcune ipotesi alcune teorie poi sarete voi decidere quella che vi piace di più e quella che volete per l'appunto abbracciare tuttavia la nostra cara eroina asoka sconfitta da bella scol nel quarto episodio è precipitata lungo la scogliera quindi è finita in fondo all'oceano quanto tempo c'è rimasta facciamo un breve conteggio perché nonostante il tempo sia minore rispetto al minotaggio è comunque tanto per un essere vivente un essere umano prendiamo infatti in esame viclum wars prendiamo in esame in questo caso il mondo tra i mondi di rebels mortis in viclum wars e le emergenze il tempo sul piano spirituale e su quello fisico non scorrono lo stesso modo quindi asoka mentre ecco la mente nel mondo tra i mondi potrebbe rimanere lì anche un giorno e poi sul piano reale nella galassia lontana lontana quindi sott'acqua magari passa soltanto un secondo ad esempio in the clone wars su mortis asoka anakin obiwan trascorrono un paio di giorni ma quando tornano sul piano fisico sono passati in realtà pochi istanti così che i cloni dicano generali vi abbiamo perso per qualche secondo questo è importante tenerlo a mente tuttavia non va a cambiare la prospettiva ovvero ok asoka potrebbe essere rimasta nel mondo tra i mondi molte più ora rispetto a quanto rimasta sott'acqua ma conti alla mano il tempo che passa è comunque tanto anche nel mondo reale perché lei viene sconfitta da bayland scol e quindi precipita c'è tutta la sequenza in cui bayland parla con sabine vren lei gli dà la mappa i cattivi partono sull'anello di sion saltano lì per spazio era viene travolta perde due commilitoni quindi atterra sul pianeta un altro buono quarto d'ora facciamo che sia passato 30 minuti da quando asoka è precipitata era parla con uiang c'è la scena con jansen che percepisce le spade laser quindi inizia la ricerca trascorre un'altra mezz'ora asoka volendo essere buoni in quel momento è sott'acqua da 60 minuti siccome il record mondiale di otto minuti e sei secondi asoka avrebbe già in mano il guinness world record potrebbe non è umana quindi il sospetto c'è ma i to gruta respirano sott'acqua onestamente no non lo sappiamo ma in nessuna opera e nessuna guida hanno mai lasciato intendere che to gruta sia una specie acquatica tanto meno anfibia e se noi ci basiamo su veclam wars guardando gli episodi su moncala asoka come tutti gli altri come anakin e padme indossa lo scafandro indossa la tuta subacquea all'ossigeno quindi non può respirare sott'acqua certo ci arrivo è facile che adesso esca una guida e dicono ok i to gruta non respirano sott'acqua sono un popolo terrestre tuttavia a differenza degli esseri umani hanno dei polmoni più capienti quindi possono resistere tranquillamente anche un'ora senza morire me lo aspetto per ora però una ipotesi speculativa non reale non c'è ancora una guida che dica ciò quindi prendetela con le pinze è possibile che arrivi anche perché i to gruta hanno in realtà più di uno stomaco quindi se a zocca dovesse rimanere trafitta come il grande inquisitore state tranquilli che non muore rimane viva quindi perché non avere anche dei polmoni più capienti o magari tre polmoni le guide potrebbero inserire questa nuova nozione c'è un'altra possibilità per ridurre il minutaggio ovvero secondo quest'altra teoria so che non è rimasta sott'acqua un'ora ma molto meno ovvero bella scolla sconfitta lei è precipitata ma non è finita direttamente in mare bensì sugli scogli al che l'oceano l'ha presa tra le sue braccia la tirata in acqua e soltanto dopo è annegata e affondata quindi in questo caso sarebbe rimasta sott'acqua non un'ora ma magari un paio di minuti magari rimasta per molto tempo sugli scogli è possibile sì ce lo mostrano no quindi personalmente credo non vada preso in esame poi anche qui siate voi decidere io nel mio contesto la ritengo plausibile ma siccome non vista non veritiera basandoci unicamente sulle informazioni sicure possiamo dedurre che a zocca sia negata in quel momento e quindi la sua anima la sua coscienza stesse diventando tutt'uno con la forza al contrario però essendo tanto legata al mondo tra i mondi anakin è riuscito in qualche modo intercettarla affermarla sul piano che è a metà tra quello fisico e quello spirituale quindi l'ha aiutata l'ha distrata per combattere e quindi tornare sul piano fisico nella galassia lontana lontana facendola in qualche modo rinascere siccome lei era morta e ciò lo so è tremendamente fantasy ma ovviamente ispirato sia per colori sia per trama al signore degli anelli e alla storia di gandalf il bianco e gandalf grigio se prendiamo infatti questa chiave di lettura esattamente come gandalf il grigio che viene ucciso e abbandona arda essendo però lui un maiar quindi uno spirito divino incarnato in corpo umano coloro che l'avevano mandato sulla terra di mezzo lo rimandano indietro con nuovi poteri rinnovati e con la veste bianca come a zocca la bianca a differenza di gandalf grosoca non è una simile divinità non è un maiar è un jedi tuttavia lei su morti si è deceduta e per tornare in vita anakin ha trasferito la vitalità della figlia quindi di una dea dentro di lei pertanto è la figura più simile che abbiamo in star wars a una divinità è qualcosa che effettivamente potrebbe essere molto legato alla forza ed esattamente come gandalf se il volere della forza fosse che a zocca ritornasse sul piano fisico nella glassia lontana lontana a finire la sua missione ecco che potrebbe aver mandato anakin sul piano intermedio quindi il mondo tra i mondi allo scopo di aiutarla per farla tornare indietro a farla rinascere per completare la sua missione contro tron se così fosse a zocca sarebbe annegata morta sul fondo dell'oceano e soltanto dopo che la sua anima è tornata nel corpo avrebbe ricominciato a riemergere a galleggiare verso la luce facendosi finalmente localizzare della nuova repubblica che vi ricordo non ha sonar subacquei ma usa dei sonar dello spazio quindi potrebbe non intercettarla all'inizio non trovarla perché monta attrezzatura non adeguata quel ritrovamento abbiamo inoltre un'altra ipotesi che si basa su di questa è molto molto più affascinante concordo con voi ma andrebbe a scuotere molto le basi del mondo tra i mondi quindi sono un pochettino restio a considerarla veritiera e il problema è che mi si aprono nella mente tante di quelle incognite possibilità a zocca stessa avrebbe un potere inaudito mai visto in star wars quindi ora ve la dico però prendetela un po con le pinze ovvero in questa teoria zocca sarebbe ugualmente morta annegata tuttavia anziché trasferire soltanto la sua mente nel mondo tra i mondi la sua anima il suo corpo sarebbe sparito dalla glassia lontana lontana e sarebbe invece finito nel mondo tra i mondi cosa che in qualche modo è possibile perché ripeto lei tanto legata al mondo tra i mondi ci sono creature come morai o il lot lupi che aprono portali e possono entrare accedere nel mondo tra i mondi tuttavia questa abilità è vicinissimo delle figure quasi divine che possono muoversi sia nello spazio che nel tempo di solito noi abbiamo visto ad esempio ezra ad esempio a zocca che si hanno avuto accesso fisicamente nel mondo tra i mondi ma tramite dei portali qui a zocca non ci va tramite un portale quindi se il suo corpo fisico e non solo guarda la sua entità mentale ma il suo corpo fisico si è teletrasportato nel mondo tra i mondi la donna è capace di aprire portali è un potere innato è un potere enorme in questo caso che potrebbe cambiare per sempre la continuiti e avrebbe ripercussioni sul futuro perché a zocca avrebbe il potere di una divinità che non sa controllare ma che avrebbe e avrebbe dimostrato in questo episodio non nego quindi che la teoria sia affascinante forse una tra le più belle la capacità di esocca di sparire quindi la nuova repubblica è per quello che non riesce a trovarla finché anakin non la spedisce indietro sia mentalmente che fisicamente riappare nell'oceano ed ecco che è sui radar bellissimo fantastico però avremmo veramente un potere di esocca superiore a qualsiasi altro personaggio mortale in star wars e dovrebbe essere sviluppato molto bene perché se così fosse ma in futuro non se ne parlasse mai più rimarrei un po stranito quindi scegliete voi se crederci o meno è affascinante è bellissimo ma crea anche qualche problema a livello di continuiti l'ultima teoria invece si lega molto agli ultimi Jedi alla leia superman tant'è in quel caso quando Kylo Ren attacca la nave emiraglia della resistenza leia finisce nello spazio risucchiata già viene protetta in modo inconscio da un campo di forza da uno scudo che la protegge a differenza degli altri che purtroppo muoiono in quell'attacco poi rimane sospesa nello spazio non c'è ossigeno c'è il congelamento ma una sorta di potere passivo della forza che la tiene in vita la protegge finché non riprende i sensi e può fare superman per tornare indietro secondo questa teoria anche asoka farebbe lo stesso quindi lei è sott'acqua protetta da questo scudo di forza passivo chiamatelo come volete che però interferisce con il radar della nuova repubblica con i sonar perché interferisce perché ad episodio 4 lo sappiamo forza e tecnologia non vanno molto a braccetto pensiamo a grievous che voleva diventare sempre più potente con i nesti cibernetici e poi scopre che la forza si muove soltanto nelle cose viventi che la tecnologia in questo caso non in grado di intercettarla perché c'è questo scudo che influisce io vi ripeto i sonar che utilizzano gli ala x sono per lo spazio non per l'acqua quindi se lei è molto sotto è difficile possano rilevarla vederla trovarla tuttavia se consideriamo questo scudo di forza già visto in episodio 8 in modo passivo allora anche qui potrebbe essere una conferma che c'è un potere passivo che protegge i jedi in stato di incoscienza magari altre volte è caduto e non ce ne siamo mai accorti anche questa è un'ipotesi di cui non abbiamo certezze ma per concludere io credo che non ci sia una risposta definitiva a ciò che si è accaduto a questo mistero quello che sappiamo che i togruta per adesso non respirano sott'acqua quindi asoka passato molto tempo sarebbe annegata ma in qualche modo è sopravvissuta scegliete voi il come e magari inventatelo tanto star wars lo sappiamo è un fantasy e in questo caso dei filoni si è ispirato tantissimo sia per trama che per tematiche al signore degli anelli c'è una piccola piccola differenza ovvero tolkien crea una mitologia spirituale un mondo spirituale più chiaro e più completo mentre in star wars e questo piano del mondo tra i mondi quello spirituale tutt'uno con la forza i fantasmi di forza sono molto caotici non sappiamo quasi niente men che meno del mondo tra i mondi tant'è a creare ancora maggior confusione nella novella dell'ascesa di skywalker re dice di aver visto un posto tra le stelle un posto tra i posti e tutti dicevano ma il mondo tra i mondi le stelle un posto tra i posti un luogo tra i luoghi è arrivato dopo un po lo story group fa no no il posto tra i posti non vuol dire il mondo tra i mondi era un modo poetico direi di esprimersi giusto giusto proprio così facciamo chiarezza su uno dei più grandi misteri spirituali di star wars ma sviscerato per bene l'argomento io vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia io sono emilio valotti del canale youtube un bounce vi aspetto qui per altri video lasciate un bel mi piace e invitate amici a unirsi a noi come sempre che la forza sia con voi a Grazie a tutti.